Ciao a tutti! Oggi prepareremo i petti di pollo alla siciliana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono fettine di petto di pollo infarinate, pomodorini freschi tagliati in quarti, olive snocciolate tagliate a pezzetti, capperi, vino bianco, sale, pepe, origano, olio e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua e chiudere con il coperchio senza il misurino. Abbiamo messo nel vassoio del Varoma e nel Varoma la carta da forno bagnata e strizzata. Adesso condiremo il pollo. Mettiamo un po' di sale, il pepe, i pomodorini, i capperi, le olive, il vino bianco, l'origano e l'olio. Posizionare il Varoma sul coperchio, chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti. Temperatura Varoma, velocità 2. i petti di pollo sono cotti, impiattare e servire. petti di pollo alla siciliana. Grazie e alla prossima ricetta. A presto! Grazie a tutti.